bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial il protagonista di oggi è il filo di scozia multicolor della tre sfere per quanto riguarda i colori io ho scelto queste sfumature di colori che vanno dal nero grigio scuro grigio chiaro e bianco per quanto riguarda gli uncinetti ho iniziato la lavorazione con il 2,5 e ho proseguito poi con il 3 la lavorazione che faremo è una lavorazione a pannelli quindi dobbiamo prendere la nostra circonferenza più sporgente che può essere quella dei fianchi o del seno e dividere a metà e dobbiamo lavorare il davanti e il dietro separatamente e adesso possiamo iniziare e vi faccio vedere il motivo del nostro lavoro quindi questo è il pannello del davanti come ho detto prima ho iniziato con il 2,5 e ho lavorato 6 giri con il 2,5 poi ho cambiato uncinetto e ho lavorato con il 3 fino ad arrivare a una lunghezza totale di 50 centimetri per quanto riguarda il pannello del davanti è tutto dritto quindi noi terminiamo dritto invece quello del dietro faremo una piccola variazione iniziando con l'uncinetto del 2,5 ho una larghezza di 45 centimetri che per me va bene quindi 45 sul davanti 45 sul dietro poi quando ho cambiato uncinetto e ho lavorato con il 3 ho una piccola larghezza quindi poi da 45 mi ritrovo con un totale di centimetri 48 49 che per me va benissimo all'uncinetto del 2,5 avviamo una catenella multiplo di 4 più 2 nel mio caso il pannello è di 96 catenelle quindi voi stabilite la vostra semicirconferenza e avviate delle catenelle per avere una semicirconferenza giusta adesso ve lo faccio vedere con un campione quindi avvio un numero che deve essere multiplo di 4 per il campione ho montato 28 catenelle adesso aggiungo le due catenelle che mi servono una per voltare e una per fare la maglia bassa quindi salto la catenella subito dopo che ho sull'uncinetto e vado in quella a fianco e lavoro una maglia bassa vado a fianco maglia bassa vado a fianco maglia bassa quindi i giri che dobbiamo ripetere del motivo sono un giro di maglie basse e un giro di maglie alte e un punto incrociato quindi il primo giro lo facciamo tutto di maglie basse e questo ci risulterà il rovescio del lavoro proseguite fino al termine terminato il primo giro giro il lavoro poi iniziamo e terminiamo il giro con una maglia alta quindi inizio con tre catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta 1 2 e 3 salto una maglia di base vado nella maglia a fianco e lavoro la prima maglia alta vado nella maglia bassa a fianco sottostante una seconda maglia alta a fianco lavoro una terza maglia alta quindi questo giro lavoreremo tre maglie alte e adesso la quarta maglia alta deve passare attraverso tutte e tre le maglie e andare a chiudere nella maglia bassa che abbiamo saltato quindi filo sull'uncinetto questo è il punto incrociato vado nella maglia bassa entro prendo il filo tiro il lavoro una maglia bassa questo è il primo quindi abbiamo finito qua salto una maglia di base vado a fianco lavoro la prima maglia alta 1 vado a fianco una seconda maglia alta prendo il filo e a fianco la terza maglia alta di nuovo prendo il filo e passo con uncinetto sul davanti e vado dove ho saltato la maglia bassa prendo il filo da dietro tiro e lavoro la maglia alta questo è il secondo motivo quindi salto una maglia bassa a fianco vado nella seconda e lavoro la prima maglia alta a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta adesso faccio la maglia alta incrociata prendo il filo passo con l'uncinetto attraverso tutte e tre le maglie sul davanti prendo il filo e tiro su lavoro la maglia alta quindi proseguo questo fino a terminare il giro e terminiamo il giro con una maglia alta salto uno vado a fianco maglia alta a fianco maglia alta a fianco l'ultima maglia alta e sono tre prendo il filo vado dove ho saltato la maglia bassa e lavoro o una maglia alta vado avanti fino a terminare il giro continuato la lavorazione fino ad arrivare sull'ultima maglia bassa quindi qui non saltiamo maglie basse andiamo sull'ultima maglia bassa e lavoro una maglia alta io ho fatto un totale di 28 catenelle e ora mi ritrovo con 1 2 3 4 5 6 e 7 motivi quindi voi se cambiate uncinetto e filato fate un piccolo campione multiplo di 4 vedete quanti motivi avete quindi poi decidete in base ai motivi che vi sono usciti per arrivare alla vostra circonferenza la vostra semi circonferenza quanti motivi dovete fare quindi poi dovete aggiungere le catenelle che vi servono per raggiungere la vostra semi circonferenza io ho fatto 96 catenelle e ho un totale di 24 motivi ora dobbiamo girare il lavoro e dobbiamo lavorare il giro di maglie basse quindi una catenella rientro nella catenella nella maglia alta sottostante quindi non salto niente vado direttamente all'interno e lavoro una maglia bassa a fianco lavoro una maglia bassa a fianco una seconda maglia bassa a fianco una terza maglia bassa e a fianco una quarta maglia bassa quindi mi ritrovo le maglie basse su ogni maglia alta sottostante che sono quattro quindi a fianco la prima maglia bassa a fianco una seconda maglia bassa a fianco una terza maglia bassa e a fianco una quarta maglia bassa quindi quando fate le maglie basse contate se sono giuste su ogni maglia alta abbiamo dobbiamo lavorare una maglia bassa andate avanti ci vediamo al termine del giro terminato il giro di maglie basse dobbiamo ripetere il giro di maglie alte e la maglia incrociata quindi 3 maglie alte saltando una maglia bassa di base quindi giro il lavoro iniziamo sempre con 3 catenelle che la nostra prima maglia alta 1 2 e 3 salto la maglia bassa a fianco vado a fianco ancora lavoro la prima maglia alta a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta filo sull'uncinetto e con l'uncinetto passo sul davanti davanti a tutte e tre le asole vado dove ho saltato la maglia bassa qui a questo punto entro prendo il filo tiro bene e lavoro la maglia alta salto 1 vado a fianco e lavoro la prima maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta ripetiamo la maglia alta incrociata quindi con l'uncinetto passo passo davanti a tutte e tre le maglie alte vado dove ho la maglia bassa che abbiamo saltato e lavoro la maglia alta salto 1 vado a fianco 1 2 e 3 filo sull'uncinetto passo davanti a tutte e tre le maglie alte vado dove ho la maglia bassa saltata entro dentro e lavoro la maglia alta incrociata e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro proseguite questo e poi vi faccio rivedere come ripartire concludo il giro con una maglia alta sulla maglia bassa sottostanza senza saltare nessuna maglia quindi questa è la maglia alta ogni volta chiudiamo e apriamo con una maglia alta questo per far venire i bordi dritti giro il lavoro e adesso lavoro il giro di maglie basse mi alzo con una catenella rientro nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia bassa qui abbiamo quattro maglie alte lavoro una maglia bassa su ogni maglia sottostante quindi 1 2 3 e 4 e vado vado a fianco lavoro di nuovo le quattro maglie basse sulle maglie alte sottostanti e termino il giro con una maglia bassa il giro successivo lavoreremo le maglie alte normali quindi 3 maglie alte saltando una maglia bassa di base e una maglia alta incrociata quindi continuo questa lavorazione per un totale di 50 centimetri sempre dritto quindi questo sarà il nostro pannello del davanti io ho contato poi sei motivi 1 2 e andando avanti fino a 6 cambiato uncinetto quindi ho lavorato le maglie basse dal sesto dal settimo motivo ho usato l'uncinetto del 3 quindi voi vedete se volete cambiare uncinetto o continuare con il 2 e mezzo il davanti ho detto che lo lavoriamo dritto invece il per quanto riguarda il dietro vi faccio vedere la piccola variazione che ho fatto quindi ho lavorato per 34 centimetri e poi l'ho diviso a metà però ve lo faccio vedere quindi questo è il pannello del dietro ho lavorato come il pannello del davanti iniziando con l'uncinetto del 2 e mezzo ho lavorato sei motivi con il 2 e mezzo e poi dal ho fatto le maglie basse dal settimo motivo di maglie alte ho iniziato a lavorare con l'uncinetto del 3 e vedete qui si vede la piccola svasatura se volete cambiare uncinetto nel corso del lavoro potete farlo tranquillamente ho lavorato per 34 centimetri e ho diviso i motivi a metà io mi ritrovo con 24 motivi quindi ho trovato la metà e ho lasciato un motivo da una parte e un motivo dall'altro e devo lavorare fin dove ho messo il marca punti quindi dobbiamo iniziare con una maglia alta e lavorare le maglie alte su ogni maglia alta sottostante e anche qui dove ho messo qui ho le quattro maglie alte mi serve questo motivo questa maglia alta per terminare il motivo dritto con la maglia alta ecco perché ho lasciato un motivo da una parte un motivo dall'altra quindi un totale di quattro maglie alte e sulla prima quindi tolgo una maglia alta lavoro la maglia alta e anche qui quindi questi mi lasciano mi lasciano l'apertura che io voglio quindi a questo punto ho fatto il giro di maglie basse continuo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso inizio con 3 catenelle che la mia prima maglia alta 1 2 e 3 salto la maglia bassa vado a fianco sulla maglia alta in corrispondenza come vedete qui lavoro la maglia alta quindi non vi potete sbagliare perché se vedete che la maglia incrociata viene spostato vuol dire che avete saltato qualche maglia come vedete invece a me sono tutti in linea vado a fianco una seconda e a fianco una terza maglia alta filo sull'uncinetto passo a davanti alle tre maglie alte vado dove ho la maglia bassa prendo il filo e lavoro la maglia alta incrociata quindi proseguo questa lavorazione e mi fermo qui su questo motivo e vi faccio vedere come continuare sono arrivata sul motivo primo da prima del marca punti quindi qua ho le 4 maglie alte e lavoro le salto una maglia bassa di base vado a fianco lavoro la prima maglia alta a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta maglia alta incrociata tiro bene e lavoro la maglia alta adesso questo motivo che ho lasciato mi serve la maglia alta per chiudere il motivo quindi devo come abbiamo iniziato chiudere con una maglia alta qui ho la maglia alta e lavoro la maglia alta e ho terminato questa parte della spalla del dietro giro il lavoro quindi dobbiamo lavorare separatamente non più avanti indietro come abbiamo fatto il pannello del davanti tutto unito ma dobbiamo lavorare separato quindi adesso faccio la maglia bassa nella maglia alta sottostante mi sono alzata con una catenella maglia bassa su ogni maglia alta sottostante una maglia bassa quindi sono 44 maglie basse 3 e 4 terminato le maglie basse giro il lavoro e lavoro di nuovo le maglie alte salto 1 a da fianco prima maglia alta seconda maglia alta e terza maglia alta maglia alta incrociata quindi andata avanti e ci vediamo al termine del giro termino di lavorare l'ultimo motivo quindi faccio la maglia alta incrociata e la maglia alta e dobbiamo proseguire questo per un totale di 50 centimetri dobbiamo arrivare al pannello del davanti giro successivo faremo le maglie basse per quanto riguarda invece l'altra parte quando arriviamo alla lunghezza della spalla del pannello del davanti dobbiamo tagliare il filo e partiamo da questa parte quindi qui abbiamo la maglia alta che dobbiamo lavorare come abbiamo fatto qui lavoriamo la maglia alta e le maglie alte incrociate saltando sempre la maglia di base quindi non vi dovete sbagliare dobbiamo sempre seguire la sequenza del lavoro per avere l'incrocio della maglia sempre dello stesso verso quindi le maglie alte le lavoriamo dal diritto e la maglia bassa dal rovescio questo per noi sarà il rovescio quindi dobbiamo lavorare anche questa parte quanto l'altra parte e dobbiamo proseguire la lavorazione fino ad arrivare anche da questa parte dalla parte dell'altro pannello terminato di lavorare anche questo pannello e come vedete ho lavorato normalmente fino a 34 centimetri poi ho diviso e ho lavorato separatamente una parte poi l'altra e due pannelli sia del davanti che del dietro devono essere identici ho proseguito poi la lunghezza fino ad arrivare alla spalla quindi come lunghezza sono uguali 50 centimetri l'unica cosa che abbiamo questa apertura sul dietro io l'ho preferita sul dietro ma voi volendo potete farlo meno scollata e farlo anche farla sul davanti o fare dietro e davanti una volta che ho terminato perché ho terminato con le maglie basse non ho tagliato il filo ho proseguito sulla scollatura con le maglie basse questo per pareggiarlo quindi non in maglia alta che abbiamo sottostante ho fatto due maglie basse però nella lavorazione vi rendete conto voi quante maglie basse dovete fare io ne ho fatte due come vedete bello piatto e non arriccia quindi non sono tante e non tira quando arriccia vuol dire che in una maglia in una maglia alta abbiamo lavorato molte maglie basse quindi ci sono delle grinze invece se tira in una maglia alta abbiamo lavorato poche maglie basse quindi decidete voi qua nella lavorazione quante maglie basse dovete fare una volta che arriviamo qua che abbiamo l'angolo faccio la stessa cosa quindi lavoro due maglie basse 1 e 2 e passo sotto dove ho il motivo è in ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa quindi vado a fianco maglia bassa a fianco maglia bassa e vi faccio vedere anche dall'altra parte come fare una volta che facciamo questo poi possiamo cucire i due pannelli quindi vedete qui come viene la rotondità perché non abbiamo né aumentato e né diminuito abbiamo lasciato le due maglie basse qui o di nuovo questa parte che unisce il sotto con il sopra come ho fatto da questa parte quindi lavoro due maglie basse 1 e 2 e poi qui mi rendo conto io come devo lavorare qui di nuovo due maglie basse 1 e 2 proseguite questo e ci vediamo al termine per cucire i due pannelli una volta che sono arrivata su dove abbiamo la spalla dobbiamo lavorare una maglia bassa quindi anche qui dobbiamo fare la stessa cosa quindi per fare l'angolo lavoro nella maglia bassa di sopra una maglia bassa una catenella rientro nello stesso punto una maglia bassa quando qui a fianco sopra e chiudo con una maglia bassissima e ho terminato la mia rifinitura ora taglio il filo quindi poi qua tagli il filo e dobbiamo cucire una volta che abbiamo rifinito il tutto decidete quale per voi il davanti e il dietro per quanto riguarda il mio pannello io faccio capitare il il dietro e il rovescio dalle parti dove ho lavorato le maglie basse mettiamo i due pannelli le due spalle contro quindi due pannelli aperti e dobbiamo cucire con ago e filo per quanto riguarda la cucitura della spalla ho fatto un totale di 10 centimetri questa è la parte che viene lasciata aperta che dopo sistemeremo e come vedete qui ci sono i due motivi che abbiamo saltato anche qui quindi il diciamo che lavoro combacia perfettamente quindi lasciamo 10 cm da questa parte 10 cm dall'altra parte e cuociamo con ago il filo quindi prendo una sola da una parte una sola dall'altra mi metto in questo modo così potete vedere bene e vado a cucire una volta che chiudiamo il pannello lasciamo un'apertura dello scalfo di 17 cm e poi lasciamo lo scalfo della manica aperto e dobbiamo cucire i fianchi quindi per quanto riguarda lo scalfo 17 cm per quanto riguarda la spalla sono un totale di 10 cm andiamo a cucire la spalla e poi faccio rivedere di nuovo l'apertura dello scalfo quindi prendo le asole del davanti e le asole del dietro gli stringo in questo modo davanti e dietro proseguite questa cucitura per 10 cm se voi invece volete meno volete fare una cucitura di 8 o 9 cm potete farlo tranquillamente io mi trovo una spalla di un totale 20 cm una volta cucite le spalle questa è l'apertura dello scalfo ho fatto 17 cm quindi sempre come abbiamo cucito per quanto riguarda le spalle con l'ago e filo vado a fare una piccola cucitura sui fianchi quindi lascio l'apertura della manica e vado a cucire il fianco da una parte e dall'altra in questo modo prendo sempre le asole del dietro e del davanti una volta che ho cucito la maglia quindi questo è lo scarfo questa è la nostra apertura ho girato al diritto e ho fatto una catenella di 50 maglie perché adesso voglio inserire la catenella qui all'angolo e poi lavorare dei giri di maglie basse sullo scollo del dietro sul davanti e poi terminare qui facendo un'altra catenella di 50 maglie questo perché poi per fare un piccolo fiocco e lavoro anche intorno allo scollo per far resistere di più la catenella nel mio caso sono 50 se voi volete fare di più o di meno potete farlo tranquillamente una volta che ho fatto le mie catenelle vado qui dove ho fatto la catenella di separazione delle maglie basse entro e lavoro una maglia bassissima per unire il tutto ora vado a lavorare maglie basse in ogni maglia bassa sottostante e lo faccio sul dietro e sul davanti quando arrivo all'angolo qui nello scollo vi faccio vedere come continuare mi ritrovo qui sulla cucitura e tra la parte del davanti e la parte del dietro quindi vado a fare una maglia bassa qui ho la cucitura e la salto e vado direttamente sull'altra parte del pannello e faccio una maglia bassa questo per far girare bene la nostra cucitura e dobbiamo fare la stessa cosa anche dall'altra parte lavoro le maglie basse su ogni maglia bassa sottostante molto facile perché ce le abbiamo già sotto e continuo questa lavorazione ci vediamo al termine del giro mi ritrovo nell'altra parte della scollatura quindi ho terminato il giro vado nella catenella di separazione dove abbiamo lavorato l'angolo e lavoro una maglia bassa e adesso faccio le 50 catenelle 1 2 3 4 vado avanti fino a farne 50 però ne faccio una in più quindi faccio 50 più 1 perché poi faccio un giro di ritorno e ritorno indietro con maglie basse comunque voi fate le vostre catenelle e poi ve lo faccio vedere ecco qua ho fatto le mie 50 catenelle aggiungo una catenella in più questa mi serve per voltare e ora in ogni maglia bassa sotto in ogni catenella sottostante lavoro una maglia bassa e salgo fino a lavorare come abbiamo fatto lo scollo del davanti e lo scollo del dietro fino ad arrivare dall'altra parte della catenella dove abbiamo fatto qui a questo punto qui lavoriamo sempre le maglie basse qui a questo punto dove abbiamo fatto questa piccola qui che abbiamo saltato la cucitura e abbiamo fatto la maglia bassa a fianco continuiamo come si presentano le maglie quindi una lavorazione molto semplice proseguo tutta questa catenella vado su lavoro le maglie basse su ogni maglia bassa sottostante qui per far venire sempre la curva lavoro le maglie basse come si presentano e poi vado a finire da questa parte dove ho la catenella io farò un totale di tre giri però se per voi due giri vanno bene potete lasciarlo tranquillamente una volta fatto questo il risultato finale l'avete visto nell'anteprima iniziale potete tagliare i fili e la nostra maglia è pronta per essere indossata detto ciò il mio tutorial finisce qui se vi è piaciuto mettete un like per una taglia M che la mia taglia ho usato in totale di 400 grammi di filato se invece voi volete aggiungere le maniche o farla più lunga dovete aggiungere qualche filato in più iscrivetevi al canale è un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto dove potete farne parte ci vediamo a presto e ciao 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 ciao